buongiorno bentornati alle nostre pillole editoriali della domenica oggi vi parliamo di un volume che non è disponibile sul nostro e shop ma che con un po di ricerche può essere facilmente trovato su amazon ebay o altrove è fuori ristampa da un po di anni ma è un pezzo forte nella storia della letteratura a tema si trova e ne stiamo parlando dell'album della ds scritto da due giornalisti francesi che sono oggi e via snuff edito per i tipi della epa nel 1983 la prima volta e poi varie edizioni sino a questa che vedete che è del 92 è il prototipo dei volumi a tema ds quello che ha creato l'impostazione fatta della storia dei personaggi che hanno costruito la vettura di quello che è accaduto prima del salone di quello che è accaduto quel fatidico giorno del 6 ottobre del 1955 di quello che è successo dopo sino arrivare a tempi relativamente recenti volume cornellato da un appendice tecnica davvero ben fatta ricavata direttamente dai prontuari che citroen dava ai propri concessionari per la verifica delle vetture usate quindi con i punti da vedere per capire se si tratta di un modello 66 piuttosto che 67 i numeri di telaio e l'evoluzione tecnica della ds il libro in origine costava una manciata di franchi ma è arrivato a quotazioni significative siamo sull'ordine dei 60 70 euro ma sono decisamente ben spesi quindi buona caccia buona ricerca e buona lettura a tutti grazie buona domenica